Ciao, sono Chico Blengini e saluto tutti i telespettatori di Italia Football Club. Da piccolissimo, da piccolo anche, sognavo come un po' tutti di fare il calciatore, di giocare a calcio, eccetera. Poi, seguendo la crescita, sono arrivato alla pallavolo. E' chiaro che lì è stato poi un amore a prima vista, nel senso che partendo da un corso di minivolle, poi dopo la cosa è stata così coinvolgente che poi ne ha determinato tutto il seguito. Ero un giocatore a livello mediocre, però ho sempre giocato in ricevitore attaccante. Ho cominciato ad allenare qualche squadra giovanile, poi c'è stato un momento, intorno ai 25 anni, in cui mi sono rotto il ginocchio, lì ho smesso di giocare e ho aggiunto ore in palestra, aggiungendo gruppi da allenare, di cui mi occupavo e dal settore giovanile. Sono molto in fretta, ho passato alla squadra, a signore di questa società, che in quel momento faceva la Serie C. e infatti ero più giovane di molti miei giocatori e poi di lì è stato uno step by step. I cinque anni che io ho lavorato con Velasco sono stati, dal punto di vista generale, degli anni anche per durata, ma non solo, evidentemente, sono stati anni in cui è stata un'esperienza decisiva. Il gusto dello sport. Sono un grande mangione, sono un grande mangione di pasta, di pizza, di cose salate. Quindi in Emilia l'abuso di tortellini e di tigelle è stato clamoroso, ho dovuto davvero darmi delle regole ferree, perché sennò rischiavo veramente grosso. E al sud, soprattutto gli anni della Calabria, sono stati anni dove riuscire a limitare il piccante non è stato semplice, anche perché a me piace molto, quindi il peperoncino, l'anduia, tutti questi piatti, soprattutto i primi, me li sono portati a casa, quindi insomma, ne continuo a fare uso. Quando abbiamo staccato il passo olimpico, devo dire che venivamo da una sequenza di giorni veramente molto faticosi da tutti i punti di vista, sia fisico per le poche ore di sonno che anche di stress dal punto di vista nervoso, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché è evidente che sia un po' l'idealizzazione che uno fa nel momento in cui intraprende un lavoro come il nostro, delle volte uno non ci pensa nemmeno, è talmente grande come cosa che chiaramente uno a volte non la sogna neanche.